Anche la giornata di ieri è stata assegnata da un lutto a causa del covid. L'ultima vittima del virus è un'anziana di San Mango sul calore, un'ottantenne ricoverata dal 14 gennaio. I pazienti covid al Moscati attualmente sono 33 di cui sei ricoverati in terapia intensiva. Al Francipane di Ariano al momento ci sono 9 ricoverati in area covid, 4 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore in Irpina si sono registrati altri 30 nuovi positivi. Casi accertati dalle analisi effettuate su 1.135 tamponi preoccupano le situazioni che si registrano nei comuni di Solofra, Monteforte e Montella. Nella cittadina e La Concia sono stati riscontrati altri 6 contagi, 4 di essi appartengono ad un unico nucleo familiare. A Solofra sono 33 i positivi in quarantena. Quattro casi covid riguardano invece il comune di Monteforte e Irpino che conta 63 positivi. Ancora in aumento i contagi a Montella, 12 negli ultimi due giorni che si sommano ai 12 precedenti comunicati il 26 gennaio. Tutte le persone coinvolte, scrive il sindaco Buonopane, sono al momento asintomatico e presentano lievi sintomi. Stiamo procedendo non senza difficoltà però ad effettuare i necessari tracciamenti. Ad oggi abbiamo disposto 60 isolamenti domiciliari. Relazionando al Dipartimento di Prevenzione dell'Asda sarà ora compito dell'azienda sanitaria, continuo al primo cittadino, procedere secondo i protocolli ed effettuare i tamponi. Lo stesso sindaco non esclude altre positività nei prossimi giorni. Buonopane inoltre far sapere di aver riscontrato in questi ultimi casi una certa reticenza da parte di alcuni cittadini a informare sia in ordine alla comparsa di sintomi sia rispetto ai contatti avuti. A qualcuno non è ancora chiaro quanto sia importante collaborare con chi si trova a gestire l'emergenza sanitaria. A qualcuno ancora sfugge, continua al sindaco, che non si tratta solo della propria salute ma anche soprattutto quella di un'intera comunità. Ho dato disposizione alla Polizia Municipale di essere intransigente nei confronti di chiunque non rispetti le regole che la situazione impune.